probabilmente a livello di testa siamo ancora deboli, non c'è verso, perché poi dice questo qui, si vede che in alcuni momenti con la fermezza, con la forza, ci si abbassa, ci si ferma, si guarda per terra, non siamo continui, non ci si aiuta, non siamo così cattivi nel trasferirci poi la fiducia che io te la mando anche a te, qui ci penso io, non ho bisogno del tuo aiuto, no, ma se ti do una mano è meglio, cioè ci mancano ancora dei collegamenti, delle connessioni che poi danno quella scintilla che ti fa partire tutti insieme, che ti fa arrivare al di là di quello che è poi la casualità della situazione sfruttata o meno, ecco.